Ingegnere, l'asito di questa riunione tutti si aspettano di sapere se il Cerrano resterà aperto ai mezzi pesanti. Allora, l'asito della riunione è questa. A valle delle mie visite avevo disposto di inibire il traffico dei mezzi pesanti lasciando aperte due corsie. In realtà si è deciso che nelle more di ulteriori approfondimenti tecnici che saranno eseguiti la settimana prossima, invece che inibire l'accesso ai mezzi pesanti consentendo il transito dei leggeri su due corsie con una condizione di carico più o meno equivalente, il transito continuerà a svolgersi su un'unica corsia consentendo sia i pesanti che i leggeri. Questo, ripeto, fino a quando saranno noti gli esiti degli approfondimenti tecnici fondamentalmente legati all'influenza della frana che è presente nella zona sia sulle fondazioni che sulle strutture. La frana è monitorata con degli inclinometri, però stiamo valutando bene che effetto possono avere questi spostamenti gravitazionali sulle strutture. Intanto, cautelativamente, tutti abbiamo concordato che è il caso di un ulteriore approfondimento tecnico non gravando sulle strutture, quindi con una sola corsia. Purtroppo la 14 è una via Crucis perché c'è bisogno di tanti interventi. Interventi che riguardano le barriere di sicurezza, interventi che riguardano le gallerie, interventi che riguardano la staticità dei viadotti. Purtroppo tutti questi interventi vanno programmati in modo tale da creare meno disagi possibili, però purtroppo si devono fare perché la sicurezza viene prima di ogni altro aspetto che riguarda la mobilità.